Dai dolcificanti artificiali, due derivati che potranno essere il punto di partenza per sviluppare nuovi farmaci antitumorali. È la prospettiva aperta dallo studio di un team internazionale guidato da Claudio Supuran, docente dell'Università di Firenze, pubblicato sul Journal of Medicine Chemistry. Ricerche recenti hanno messo in luce che a rispetto dei timori per gli effetti sulla salute umana emersi negli scorsi decenni, le sostanze che compongono molti dei dolcificanti artificiali possono uccidere le cellule cancerose umane, secondo Supuran, ordinario di chimica farmaceutica all'Ateneo Fiorentino. Lo studio si è posto l'obiettivo di individuare una versione di tali sostanze in grado di inibire con ancora maggiore efficacia un enzima, l'anidrasi carbonica, che favorisce nei tumori il meccanismo di crescita delle cellule malate. I ricercatori appartinenti all'Università di Firenze, all'Università della Florida, a King South University, agli istituti egiziani National Research Center e Kafr Sheikh University hanno studiato oltre 20 sostanze, combinandole con il sulfonamide sulfamato contenuto negli edulcoranti per sfruttare e potenziare le capacità di tale gruppo chimico di bloccare l'azione dell'anidrasi carbonica. Alcuni dei composti studiati, legati in posizioni specifiche con le strutture chimiche e dei dolcificanti artificiali presi in esame, hanno mostrato una capacità ancora superiore rispetto agli edulcoranti stessi nel selezionare le varianti dannose dell'anidrasi carbonica, bloccando così cellule tumorali polmonari, prostatiche e del colon, ma senza danneggiare le cellule sane. L'esperimento condotto in vitro ha permesso di individuare in particolare due molecole che in futuro potranno aprire la strada a nuove terapie antitumorali, con effetti collaterali sempre più ridotti.